o anche il Jobs Act, so bene che la questione è controversa, ma secondo me aiuterà le assunzioni, aiuterà ad assumere persone ed è anche più eco rispetto ai giovani. Quindi ci sono tanti temi difficili all'ordine del giorno, ma le riforme proposte sono molto incisive e non sono nella competenza dell'Unione Europea, soltanto i Parlamenti Nazionali possano realizzare queste riforme. Si è parlato dell'effetto moltiplicatore. Abbiamo un capitale di 21 miliardi nel nuovo fondo di rischio. Questo capitale permetterà al fondo di prestare 60 miliardi. La BEI può reperire finanziamenti sul mercato nell'ordine di 60 miliardi con una base di 21 miliardi. Questi 60 miliardi sono fondi pubblici che verranno utilizzati per i progetti a più elevato rischio o per le PMI.